La notte bianca dello sport all'Aquila, alla sua prima edizione, avrebbe dovuto trasformare la città in una grande palestra diffusa e a cielo aperto, ma a causa del possibile maltempo, il programma è stato rivisto in modo sostanziale. Sono confermati il convegno, lo sport come strumento educativo e sociale alle ore 18.30 all'Auditorium del Parco, il concerto di Massimo Priviero in piazzale delle Medaglie d'Oro alle 22 in caso di pioggia, si terrà all'interno dell'Auditorium, l'amichevole dei giovanissimi tra l'Aquila e Pescara alle ore 19 allo Stadio Gran Sasso, gli eventi previsti allo Stadio Fattori, confermato anche il torneo tennis ATP al Circolo Tennis e dalle 16 le attività alla piscina comunale, che riguarderanno nuoto sub, nuoto sincronizzato e pallannuoto. Non mancheranno gli stand enogastronomici al Parco del Castello. Sono rinviata, adatta da destinarsi, le attività di arti marziali, fitness, basket, ciclismo, le dimostrazioni di attività di salvadaggio, quelle cinofile, la danza, lo yoga, l'equitazione, la scherma storica e il pattinaggio artistico. Sono state effettuate anche delle modifiche alla viabilità. È stato istituito il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 8 di sabato 16 alle ore 2 di domenica 17 giugno, in piazza Battaglione Alpini, via Le Medaglie d'Oro, via Malta e via Castello.